Il dottore Franco Cirillo è stato nominato membro onorario dell'ESPRM, che è la Società Europea di Medicina Fisica e Reabilitativa. Il riconoscimento gli è stato comunicato attraverso una lettera inviata dal professore Nicolas Christodolu, presidente dell'ESPRM, che gli sarà conferito poi ufficialmente il 19 settembre a Belgrado, in occasione del prossimo congresso europeo. E sicuramente è un riconoscimento di prestigio e debbo essere sincero, mi ha fatto tantissimo piacere, anche perché viene in un momento della mia vita particolare, un momento che ho attraversato difficile, che ho superato e che mi fa capire come tutto quello che si è fatto nella vita e ci si è spesi, alla fine paga. Quindi il fatto che a livello europeo abbiano riconosciuto l'impegno di un professionista, ma soprattutto di una struttura, ecco a questo punto io cambio l'obiettivo, è la struttura che in effetti è premiata, è la scuola euro-mediterranea. scuola euro-mediterranea che è realizzata a Siracusa, in 15 anni ha fatto formazione per migliaia, migliaia di giovani medici provenienti da tutti i paesi dell'area del Mediterraneo, che si sono incontrati ogni anno a Siracusa, hanno fatto un'esperienza meravigliosa sia dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. sa che è bello vedere un ragazzo che viene dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Bielorussia a fraternizzare con un ragazzo che viene da Israele, dalla Palestina, dal Marocco, dalla Tunisia. Ecco, questo spirito internazionale effettivamente è stata, ed è ancora oggi, ancora oggi, non so per quanto, perché è difficile portare avanti una struttura del genere negli anni. Io mi auguro che ci sia qualcuno che poi possa raccogliere questo testimone e portarlo avanti. Quello che, dove mi sono speso io in questi anni, possa avere un qualcuno che possa nel tempo ripercorrere questa strada, perché Siracusa lo merita. Così come ci sono state altre istituzioni importanti, ne cito una, l'Isisci per esempio, non pensate che questa sia meno importante, proprio per la dimensione internazionale. Grazie a tutti.